Sicuramente nell'ultimo periodo avrete letto di questo, o di questo, o anche di questo, o cosa ancora più probabile vi è arrivata questa. Ma la vera domanda con cui voglio discutere con voi oggi è per chi è intenzionato a comprare un'auto elettrica? Ad oggi, se nella peggiore delle ipotesi le cose dovessero stare così, conviene ancora? Prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale. Mi raccomando, lasciate un like e seguite il video fino alla fine, così YouTube può proporre questo video, se ti può piacere, anche ad altri utenti. Iscriviti se ancora non l'hai fatto e seguimi anche sul mio canale Telegram e soprattutto sul mio profilo Instagram. Come ben sapete, nell'ultimo periodo, per ragioni che non vi starò a spiegare perché ci sono anche molti video molto spiegati bene su questo argomento, il costo dell'elettricità è aumentato. So benissimo che c'è una differenza a livello generale per chi è nel mercato libero e per chi, come me, ancora è nel servizio a maggior tutela. Però, mediamente, e dico mediamente, il costo dell'elettricità nei mesi di gennaio e febbraio è letteralmente schizzato alle stelle. E da oggi, e ripeto mediamente, il costo dell'elettricità si aggira attorno a 0,32 euro ogni kilowattora e dico mediamente, aspettate prima a scrivere perché so già che mi farò male in questo video. Però, prima, devo fare una piccola premessa su questo argomento che è abbastanza delicato perché quello che vorrei che faceste voi è andare a prendere la bolletta e fare i semplici conti che andremo poi a svolgere per renderci conto con il prezzo euro-kilowattora vostro. Questo perché per chi è ancora nella parte iniziale, se qualcuno l'ha fatto ultimamente negli ultimi sei mesi, ad esempio, a livello contrattuale del mercato libero che è solitamente per i primi 12, 24, 36 mesi il prezzo è fisso e chi è ancora nel servizio a maggior tutela ci sono delle differenze che sono un pochino diverse. E spero vivamente di essermi spiegato perché è un po' difficile stipulare una media ad oggi generale visto la situazione. Per fare un esempio personale, noi come famiglia ancora oggi siamo nel servizio a maggior tutela. Nel mese di dicembre il costo dell'elettricità si aggirava mediamente intorno a 0,2 euro-kilowattora mediamente sia in fascia F1, F2, F3 e questo prezzo si è aggirato molto simile per l'intero anno 2021 circa. A gennaio è arrivata, diciamo, la stangata ed il prezzo medio tra fascia F1, F2 e F3 è stato ben di 0,35 euro al kilowattora ben il 75% più alto rispetto al prezzo di dicembre 2021 perché se devo essere sincero la prima volta che l'ho guardata l'ho riguardata almeno 10 volte per essere sicuro che fosse veramente quello il prezzo perché mi sembrava veramente anormale tutto ciò. Sicuramente, forse l'avrete già sentito una delle soluzioni per risparmiare di più è quello di entrare nel mercato libero e fare un contratto per i primi 12, 24, 36 mesi e poi ogni tot di mesi poco prima dello scadere del contratto andare a rifare un altro contratto con un nuovo operatore e quindi diciamo ciclicamente andarlo a cambiare ogni 12, 24, 36 mesi o quel che è insomma perché si ha un prezzo fisso e si sa quello che si paga insomma però diciamo che la vedo più come una rottura di scatole e ci potrebbe essere anche il rischio perché il prezzo dell'energia nel frattempo siccome si può variare come abbiamo visto perché dipende in poche parole molto generalmente dal mercato dell'energia il prezzo può variare quindi può essere anche più basso rispetto a quello che si può stipulare con il contratto però ecco tralasciando questo discorso che casomai se siete interessati perché è un argomento molto interessante molto delicato fatemelo sapere qua sotto nei commenti che casomai potrei organizzare un video e si deve studiare un po' più approfonditamente però ecco conviene effettivamente l'auto elettrica ad oggi soprattutto senza incentivi per l'auto come vi dico sempre si deve essere un po' obiettivi e vedere con conti alla mano o almeno ci si prova cosa ci conviene effettivamente in questo video farò un paio di esempi e delle considerazioni allora avete presente i vecchi tra virgolette video che ho fatto l'anno scorso su per esempio Dacia Spring versus la Dacia Sandero GPL in costi 10 anni o anche per esempio la Opel Corsa versus elettrica, benzina o gasolio e sempre i costi in 10 anni ecco ho preso i dati da quei video che ho fatto e molto brevemente ho preso i consumi quanti litri di benzina servono tutta questa serie di dati che vi consiglio di andare a rivedere i video se ancora non li avete visti perché così capite tutto il discorso che ci sta dietro del perché ho fatto quei calcoli comunque a noi ci interessano soltanto alcuni dati per fare una somma per vedere quant'è il costo effettivo sempre in 10 anni di vita prima di tutto per quanto riguarda i dati per benzina, GPL e gasolio come sempre vado a prenderli nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove mensilmente vengono pubblicati i dati medi dei prezzi del benzina, gasolio, GPL o quel che è quindi nel mese di gennaio perché sono gli ultimi dati disponibili la benzina come prezzo medio è stato 1,76 il GPL 0,81 e diesel 1,63 per quanto riguarda l'elettricità ho considerato il prezzo 0,32 e 0,35 euro ogni kilowattora però andremo siccome come vi ho detto è una media almeno dalle mie ricerche la media sarebbe di 0,32 euro kilowattora attualmente però prendiamo 0,35 euro kilowattora per essere abbastanza ampi tra virgolette un po' più gonfi per vedere effettivamente cosa conviene allora ho preso inizialmente il confronto tra Dacia Spring e la Dacia Sandero Stepway quella che va a GPL e benzina vi ricordo che i conti che considero sempre sono ogni mese 1000 km in un anno 12.000 in 10 anni 120.000 km per quanto riguarda in un anno la Sandero perché va sia a benzina che a GPL avevo calcolato al tempo che in un anno si facevano tre pieni di benzina che sarebbero 150 litri che corrisponderebbero a 264 euro invece per quanto riguarda la parte GPL in un anno si utilizzerebbero 1068 litri di GPL con un prezzo di 865,08 euro il totale tra benzina e GPL è 1129,08 euro per un anno per quanto riguarda la Spring in un anno si dovrebbero utilizzare circa sempre sono come sempre vi dico dati medi molto generali per farsi un'idea dovrebbe consumare 1719,72 kWh di elettricità per il prezzo di 0,35 euro al kWh sarebbero in un anno 601,9 euro per quanto riguarda in 10 anni ovvero in 120.000 km la somma vi ricordo che il costo dell'auto che ho preso sempre dai video che avevo fatto l'energia che può essere benzina o elettricità o GPL o quel che è sempre in 10 anni che basta fare il dato in un anno fare per 10 semplicemente il bollo che ho preso il prezzo minimo perché se ricordate il bollo dipende da regione a regione e possono variare di 200-300 euro tra l'uno e l'altro quindi ho preso il prezzo minimo semplicemente per semplificare i conti e il costo della revisione che sono 180 euro cosa è uscito fuori che per quanto riguarda la Dacia Sandero sarebbero in totale 27.029,8 euro invece per quanto riguarda la Spring sarebbero 26.287,32 euro come avete ben notato se ve lo siete già chiesti non è compreso l'assicurazione né il tagliando perché come sempre vi dico queste due cose purtroppo non si può fare una media generale ad oggi soprattutto dall'assicurazione perché il caso è soggettivo però considerando un fattitico tagliando che non so quanto potrebbe costare perché queste auto sono nuove quindi quasi nessuno ormai ha già fatto un tagliando secondo me il prezzo della Spring nel corso di 10 anni visto che è un'elettrica costerà un pochino sempre un pochino di meno rispetto alla Sandero che è GPL voi vi potreste chiedere bene Luca tu hai fatto questo confronto con due auto che sono piccole alla fine e non hai considerato neanche per esempio un'auto a gasolio per fare ciò ho fatto un altro esempio con la Opel Corsa che viene proposta sia in versione elettrica che benzina che a gasolio e anche questo c'è il video che vi lascio qua sopra nelle schede molto brevemente senza che vi dico quanti litri di benzina eccetera spero che mi sono fatto capire nel meccanismo perché i conti sono abbastanza semplici in caso se c'è qualcuno che li vuole fare me lo scriva qua sotto nei commenti e vi scrivo i conti effettivi su un commento così vi potete regolare senza andare a stoppare vi può anche un po' scocciare per quanto riguarda la Opel Corsa in 10 anni facciamo direttamente di vita sempre 120.000 km per la versione a gasolio sarebbero 10.758 euro di solo diesel più la Opel che costa 18.200 più bollo e revisione fanno 31.073 euro per quanto riguarda invece la versione a benzina sarebbero solo per benzina 13.453,44 euro più 17.200 euro di Opel più 180 che è la revisione più la bollo sarebbero in totale 32.742,44 euro invece per quanto riguarda la versione elettrica per l'elettricità il costo è di 7.068,6 più la Opel che costa 32.400 euro più bollo e tagliando totale 39.971,1 euro se in caso si va anche a inserire secondo me anche qua assicurazione e tagliando i costi diventerebbero ancora più vicini tra di loro però effettivamente qua la versione a gasolio costa di meno come si può notare il prezzo ed il costo in 10 anni dipende specialmente dalla tipologia di auto ovviamente in questo canale abbiamo parlato sempre alla fine se ci avete fatto caso di auto comuni perché sono nell'idea che prendere come esempio una Tesla mode 3 e paragonarla ad una similvettura come ad esempio una Mercedes AMG classe A che hanno dei costi simili e soprattutto il costo di queste due auto che insomma non è poco credo proprio che indipendentemente se uno va a comprare l'una o l'altra credo che non si ponga il problema di acquistare per risparmiare o perché abbia semplicemente un budget limitato quindi vi ho messo il puntino sulle i perché non venite mai a dire è perché non mi hai confrontato Tesla con una Mercedes o quel che è perché è inutile a parer mio perché quel tipo di auto sicuramente non tutti se la possono permettere quindi insomma ci siamo capiti vero quindi diciamo che a parer mio includendo come vi ho detto prima assicurazione e tagliando in dieci anni di vita potrebbero esserci delle differenze sì ma non troppe per dirvi non una differenza che sia tipo di 10.000 euro però ecco una differenza di qualche migliaio di euro e senza tener conto che non ci sono gli incentivi se no l'elettrico varrebbe ancora di più la pena prenderlo e a proposito se vi state chiedendo perché non faccio più quel video di confronti tra elettrico versus termico e costi in dieci anni tenetevi questo video in linea molto generale perché non essendoci gli incentivi credo che non abbia troppo senso fare quella tipologia di video però se siete curiosi anche che faccia una specie di confronto tra sempre elettrico versus termico anche se non ci sono gli incentivi potrei mettere che ne sono nella tabella tabellona nei conti che vi faccio vedere ogni volta sia il prezzo effettivo in dieci anni senza incentivi che anche con includendo degli eventuali incentivi nella formula che abbiamo visto l'anno scorso fatemelo sapere anche questo nei commenti perché sarebbe interessante però vorrei avere un feedback in conclusione come sempre vi dico alla fine dipende assolutamente dall'uso che se ne fa all'auto ormai dovreste sapere la mia opinione per quanto riguarda auto elettriche perché per il 99% dei casi come seconda auto di famiglia che viene utilizzata principalmente in ambito urbano o al massimo per qualche giro fuori porta nel weekend l'elettrico va più che bene soprattutto perché non ci sono tutti quegli sbattimenti come ad esempio andare dal benzinaio o andare più frequentemente che ne so a fare il tagliando queste robe del genere poi ci sono anche una serie di incentivi che nell'uso quotidiano come poter ad esempio parcheggiare in ZTL o in determinati posti fanno veramente comodo soprattutto quando si esce ad esempio il sabato sera che in centro c'è sempre casino quindi conviene ancora l'auto elettrica per risparmiare soprattutto nella situazione attuale è più un ni ovviamente se ci fossero gli incentivi sarebbe un sì enorme però ecco se potete aspettare per degli eventuali incentivi sempre meglio aspettare se potete ancora resistere con la vostra vecchia auto e se vi state chiedendo se con l'attuale prezzo dell'elettricità conviene io vi direi anche di sì soprattutto se ci fossero incentivi se non ci sono come abbiamo visto oggi dipende dalla tipologia di auto perché se andate a confrontare come abbiamo visto una Dacia Spring con una Sandero come seconda auto ovviamente se la utilizzate come principale auto credo che per la maggior parte vada a comprare una Sandero GPL però quello è un altro discorso ancora dipende 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 dovete fare i vostri conti tenete conto che in concessionaria quando andate a fare un preventivo di un'auto specialmente elettrica oggi anche se non ci sono gli incentivi e se dovete dare qualcosa di vecchio dentro è molto più probabile che ci siano degli sconti tra virgolette del concessionario un pochino più alti rispetto alle versioni termiche comunque secondo me si può stare abbastanza tranquilli perché secondo me il picco del costo dell'elettricità l'abbiamo già superato a gennaio e in queste ultime due settimane ho monitorato un pochino perché a ho voglia ero curioso più che altro i prezzi dell'energia sul mercato e rispetto a gennaio o anche prima che si aggiravano su 0,35 addirittura ci sono stati alcuni picchi su 0,4 ora attualmente siamo circa su 0,3 quindi probabile che marzo in poi il prezzo dell'elettricità diminuirà notevolmente quindi si sta già abbassando leggermente io spero vivamente di essermi spiegato per il meglio se ci sono dubbi fatemelo sapere qua sotto con calma iscrivetevi se ancora non lo avete fatto iscriviti anche al canale telegram delle offerte e seguimi anche sul mio profilo instagram buona continuazione su youtube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su youtube ciao 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 ciao